questa mattina ho avuto il piacere di presentare i dati del gene editing nelle due emoglobinopatie più frequenti la talassemia trasfusione dipendente e l'anemia cellule falciforme. In entrambi gli studi che sono stati condotti si è dimostrata una grande efficacia dell'approccio basato sull'inattivazione di un gene chiamato BCL11A, la cui funzione fisiologica è quella di sopprimere la sintesi dell'emoglobina fetale. Attraverso un approccio di CRISCas9 editing utilizzando quindi delle guide di RNA è stato possibile inattivare questo gene e perciò ripristinare la sintesi dell'emoglobina fetale. Tutto questo esitato in una indipendenza dal fabbisogno trasfusionale di quasi il 90% dei 27 pazienti che sono stati seguiti per almeno 16 mesi dopo l'infusione delle cellule editate ed è un risultato straordinario tenendo conto che in questo studio sono stati inclusi non solo adolescenti ma anche giovani adulti per i quali l'opzione di trapianto allogenico di cellule staminali omopoietiche non è praticabile e nei pazienti con anemia cellule falciforme i risultati sono stati altrettanto lusinghieri se non di più perché il 94% quindi 16 di 17 hanno mostrato libertà da crisi vaso occlusive per almeno 12 mesi e tutti i 17 pazienti non hanno sviluppato comunque eventi di severità tale da richiedere l'ospitalizzazione e da tenere presente che in questo gruppo di pazienti il numero di crisi vaso occlusive nei due anni precedenti l'infusione delle cellule editate era stato di almeno quattro episodi di media per anno